Siamo con Carlo Moretti della delegazione AIS di Rovigo. Oggi si presenta proprio qui a Rovigo Alba Vite. Che cos'è? Alba Vite, come dice proprio il termine stesso, Alba vuol dire gli albori, cioè gli inizi della viticoltura. Quindi è un progetto che ha una valenza non per spiegare le origini della viticoltura, ma più che altro per spiegare che cosa? Per spiegare la finalità che ha questo progetto e quindi il mondo dell'energia e della viticoltura e quindi il mondo del vino, rivolto a che cosa? Rivolto, il cui ricavato deve essere dato, rivolto sostanzialmente a quelli che sono un po' i problemi. Quindi è un progetto di carattere sociale, quindi è un progetto, noi lo definiamo enosolidale, cioè il vino rivolto ai bisognosi o comunque a chi ha bisogno. E questo è un po' il senso. Chiaramente è un progetto che trova la sua essenza, quindi la sua valenza, soprattutto da dove? Dal fatto della vendita del vino, quindi dalla vendita di queste eccellenze che vengono prodotte a livello veneto, quindi solo nell'ambito veneto, distribuite su tutto il nostro territorio. Quindi è stato scelto per una questione così di vicinanza il territorio di Pado e quindi i Colli Ogani e abbiamo individuato in un vitigno specifico proprio di Colli Ogani, al quale molto probabilmente anche la stessa Rovigo è più legata ai Colli Ogani e a questo vitigno, il Moscato, che in versione inedita non è il classico Moscato dolce con la bollicina, quello che magari si consuma notoriamente nel periodo di Natale con il panettone, ma nella versione secca, quindi in una versione nuova, nel senso che poche aziende riescono a produrlo, a realizzarlo e a farlo e quindi abbiamo pensato a che cosa? Anche e soprattutto a un vino bianco, rispetto alle annate passate che sono sempre state prevalentemente la bollicina o il vino rosso, abbiamo ereditato da Belluno che ha fatto con il Capo di Stato un vino molto importante, il fatto stesso Capo di Stato lo giustifica, e quindi ecco, confidiamo che una versione un po' inedita con tre annate, che normalmente hanno sempre un'annata sola, invece che quest'anno ne abbiamo tre, vuol dire che possa sortire un risultato positivo che sia nella condizione di poter dare soddisfazione economica, perché ovviamente l'ente beneficiario l'abbiamo individuato nei cosiddetti giovani in cammino, GIC come l'acronimo che l'ho. Il progetto Bavite è un progetto di tipo solidale che AIS Veneto conduce già da sette anni, questa è la settima edizione, che si consente di confezionare letteralmente un grande vino veneto in un packaging tutto associativo, mettiamola così, quindi un prodotto molto particolare, è l'unico vino che imbutigliamo, non ci possiamo permettere di fare queste operazioni che lasciamo naturalmente ad altre grandi aziende, però in questo caso, grazie alla collaborazione di alcune grandi aziende venete, ogni anno riusciamo a mettere in quel magnum una delle eccellenze del territorio regionale e di mettere a disposizione dei soci e degli appassionati. Il ricavato di questa vendita, che è aperta anche al grande pubblico, a tutti quelli che hanno voglia di portare a casa una grande confezione, una grande bottiglia, il ricavato di cibo viene devolto a operazioni di tipo solidale. Ogni anno stacchiamo, alla fine di questa iniziativa, un assegno che dedichiamo a operazioni che di solito sostengono fortemente situazioni in cui l'infanzia, in modo particolare, o comunque i giovani in genere, hanno bisogno di sostegno. Qual è il vino di quest'anno? Quest'anno un moscato secco, viene dai Colle Eugane e quindi la voglia anche di calcare un tema che è molto di tendenza, quindi un moscato secco che si presta molto bene, non solo a quelle situazioni molto legate all'entrata e all'aperitivo, ma anche a situazioni molto più evolute. Dimostrazione che un vitigno come questo nel tempo sa regalare anche grandissime soddisfazioni. Grazie mille. Grazie a voi.